ok vediamo questo nuovo orologio allora è un brand cinese abbiamo una confezione in cartone rivestiti in pelle finta pelle il brand si chiama Yulu è molto noto per un motivo dopo vediamo in seguito ok qui abbiamo classica cassa del submariner vari modelli di marche di lusso possiamo vedere abbiamo la cassa che non è 3 16 l perché sia le maglie del bracciale giubili e la cassa si attacca la calamità provato una calamità sottile si attacca quindi sarà un 300 300 e 4 perché 304 un po magnetico poca roba ma niente ma abbiamo un inserto ieri in ceramica la ghiera è bidirezionale 60 scatti le misure di questo orologio è un 41 di diametro un lato la 47 lo spessore 14 senza la lente e lanza praticamente 20 mm abbiamo un quadrante nero lucido l'orologio come ripeto è un gmt la corona vite e non logata affermo movimento potete vedere ok allora vediamo se primo scatto abbiamo l'inserimento della città gmt per regolare fuso orari a piacere e esso e cambiare praticamente giorno regolare giorno del mese come potete vedere ok poi c'è anche poi regolare l'ora se sbagliata grande allora a ore 12 ore 12 c'è il logo vediamo se possiamo zoomare un po c'è il logo e la scritta stampata hulu hulu la pronuncia dovrebbe essere così a ore 6 c'è scritto gmt automatico water resistente 10 bar 100 metri di impermeabilità la colonna sia vita molto bene quello che da dire dire che dire il fondello fondello è a vite e non ha non nessuna dicitura le maglie praticamente è un bracciale giubilì le maglie satinate ai lati e lucide al centro non hai copri comprianza questo bracciale non hai comprianza molto ovviamente hanno recuperato un bracciale da qualche parte perché non ha per risparmiare forse come te lo vendono te lo vendono con coprianza mi è arrivato così allora lo vediamo al crono comparatore vediamo come si comporta calibro economico per il rumore ok siamo al crono comparatore e gino qui gli darà un'occhiata possiamo vedere un po più da vicino allora abbiamo 21.600 alternanze un bit error di 0.6 un ampiezza diciamo di 300 e 13 non è male e un scarto secondi al giornaliero è più 2 più 2 come possiamo vedere adesso è andato più più 7 è andato più 7 non è proprio baby tarato ma meno 3 quando va più meno di brutto così non è che sia tratto giusto e più c'è una sporcizia come possiamo vedere su un lato diciamo che non so se sia un problema sicuramente sì ma per resto dai se andiamo a calcolare i valori non è male ok andiamo le conclusioni ok siamo le conclusioni allora il quadrante è nero lucido come possiamo vedere è lucidato lucido praticamente rispecchia gli indici non sono applicati che variano altri da triangolare a rettangolare e sperici tondi tondi con la florescenza all'interno vediamo se sono florescenti la florescenza c'è ma non è di quelle di quelle belle quelle che pompa via vediamo se precipita o mantiene abbastanza abbastanza bene lei tutte le sfere sono illuminate con la florescenza però il seto iela non ha la florescenza ok siamo le luci vediamo se il vetro è in zaffira vetro non è in zaffira perché dicevo all'inizio del video che è molto famoso perché ho scoperto per puro caso che praticamente tanta gente lo comprano è molto richiesto questo l'orologio sebbene che ha una qualità boh per dire pessima pessima per quello che costa è ottimale diciamo vediamo se riesco anche perché non hanno nemmeno avvitato il fondello ti lavi le mani e bruci subito vediamo classico calibro allora fanno un movimento in plastica nessuna dicitù la sua calibro sarà giapponese sicuramente monodirezionale carica monodirezionale ecco qua qua gira vuoto dalla parte opposta va a caricare sulla molla ok ho visto tutto dicevo che è molto famoso per un motivo adesso la vito un po perché tanto bisogna stringerlo questo motivo perché adesso vediamo assieme dopo sono andato a vedere le recensioni praticamente dichiarano la verità naturalmente sono uno degli ultimi che ha preso questo l'orologio perché perché questo l'orologio lo diciamo lo vendono con questo marchio però ti arriva con il marchio rolex a me è arrivato con l'anello interno del quadrante con la dicitura rolex vediamo se riusciamo anche mettere a fuoco meglio potete vedere addirittura con la corona interessante e ho visto che tanti hanno preso questo orologio per avere un role spazio ovviamente io ho preso questo perché questo prende come ho detto all'inizio nasce e muore diciamo diciamo stesso giorno però loro ci provano sempre ok io prendo questi orologi orologi per fare anche certi tipi di attività come potete vedere mi dedico a fare di ciselatore su questo caso è un'erede ultra black e da finire comunque vediamo farò farò un video breve video ok mi dispiace ma per meno qua verrà distrutto verrà fatto prove per incidere incidere qualche disegno per vedere valutare vedere buono ci vediamo al prossimo video magari con quello di pierpaolo che è un penso che ce l'ho lì un bello orologio fatto bene ok ciao prossimo video